Ancora arresti di ladri Specializzati nei furti in ville Operazione dei Carabinieri di Saluzzo Domattina conferenza stampa nel comando provinciale Sgominata una banda Colpi in tutto il nord Italia Approvato il progetto definitivo Per la realizzazione della strada di accesso Al nuovo ospedale di Verduno Via libera dal collegio di vigilanza regionale Entro settembre il progetto esecutivo Non solo via Roma Anche le fontane di Cuno si colorano di rosa Per l'illuminata E un omaggio dell'associazione Pane al Pane Onlus Utilizzati coloranti non tossici E di origine vegetale Calcio, presentazione ufficiale Per 5 nuovi acquisti del Bra Tra questi Carretto e Ferrario Mercato che non finisce Società ambiziosa Le parole dei nuovi arrivati Buonasera gentili telespettatori Benvenuti al nuovo appuntamento Con l'informazione di Telegranda Cronaca in primo piano Ancora arresti da parte dei carabinieri Di malviventi specializzati Nei furti notturni All'interno di ville o abitazioni Nella mattinata di domani La sede del comando provinciale dell'arma In corso Soleri a Cuno Che vediamo in queste immagini Ospiterà una conferenza stampa Nel corso della quale saranno illustrati I dettagli dell'ultima operazione Che è stata condotta dai carabinieri Di Saluzzo Arrestati dei ladri di nazionalità albanese Che depredavano con rapine e furti Ville nel nord e più in generale Anche nel centro Italia Illustreranno quest'operazione Il procuratore aggiunto di Cuno La dottoressa Gabriella Viglione E il comandante provinciale dei carabinieri Il colonnello Flavio Magliocchetti E sempre a proposito di furti in appartamenti Il viceministro della giustizia Costa Ha promosso un incontro per sabato 11 luglio Alle 10.30 Nella Sala Verdi Della scuola di alto perfezionamento musicale A Saluzzo Proprio per discutere di questa tematica Si parte da un dato Relativo all'escalation dei delitti Contro il patrimonio in provincia di Cuneo Dove nel quadriennio Compreso tra il 2011 e il 2014 Si sono registrati oltre 12.000 furti in abitazione E 500 rapine Ancora cronaca nel prossimo servizio Due casi di violenza sulle donne Denunciati due uomini A Cuneo e a Borgo San Dalmazzo Violenza sulle donne Ancora due casi Denunciati dai carabinieri del comando provinciale A Cuneo I militari dell'arma sono intervenuti In un'abitazione del centro A chiamare i vicini Allarmati dalle urla di una coppia Lui Artigiano Incensurato Trentenne cunese Lei 27enne badante romena Sposati da anni Senza figli Giunti sul posto Hanno trovato la donna In stato di alterazione psichica Con alcune chimosi sulle braccia E il volto arrossato Come se fosse stata appena presa a schiaffi L'uomo invece era in evidente stato di ebbrezza Dalla denuncia Formalizzata in caserma È emerso che Ormai da alcuni mesi Il marito tornava a casa dal lavoro Dopo essere passato dal bar sotto casa Ed aver consumato bevande alcoliche Sempre molto aggressivo Talvolta, come accaduto l'altra sera Se la prendeva con la moglie Senza alcuna ragione Percuotendola Nei suoi confronti I carabinieri hanno redatto Una dettagliata informativa Inviata all'autorità giudiziaria Per i reati di maltrattamenti in famiglia Percosse e lesioni personali A Borgo San Dalmazzo Invece un operaio trentenne cunese È stato denunciato per stalking Secondo la vittima Una commessa 29enne Originaria di Bra Che vive a Borgo San Dalmazzo Il suo ex da tempo La perseguitava e intimidiva I due avevano avuto una relazione Dopo alcuni anni di convivenza Era stata lei A lasciarlo per incompatibilità caratteriali L'uomo non si era rassegnato La pedinava sotto casa Sul luogo di lavoro Generando nella donna Uno stato d'ansia e paura Tale da condizionare Le sue abitudini di vita E la libertà di movimento Ora, il magistrato Che si occupa del caso Come prevede la norma Sullo stalking Potrebbe adottare A carico dell'indagato Una misura cautelare personale Che gli impedisca Di avvicinarsi All'ex compagna Pena il suo immediato arresto Torniamo a parlare Dei danni provocati Dagli ungulati All'agricoltura A fare discutere Anche e forse Soprattutto Gli indennizi Messi a disposizione Dall'Unione Europea Indennizi Relativi ai danni Prodotti dai selvatici C'è troppa confusione Dopo che l'Unione Europea Ha ipotizzato Che i rimborsi Debbano rientrare Nella quota Degli aiuti di Stato Alle aziende agricole Così L'assessore regionale All'agricoltura Giorgio Ferrero Nel corso di un incontro Martedì a Roma Con il ministro Maurizio Martina Ha sollecitato Un suo intervento In Europa Per permettere Alle regioni italiane Di pagare i danni Il Piemonte Per quanto riguarda Il 2014 Ha a disposizione 711 mila euro Pronti per essere pagati E bloccati Dall'interpretazione Della direttiva comunitaria Nel frattempo Arpea Ha distribuito Ad ambiti territoriali Di caccia E comprensori alpini Un milione di euro Per fini istituzionali Ma rimangono Ancora da completare I pagamenti Degli arretrati 2012-2013 Per i quali L'attuale giunta Chiamparino Non ha trovato Al suo insediamento Neanche la copertura Di bilancio Siamo riusciti Dopo una lunga trattativa A inserire negli elenchi Del decreto legge Per un totale Di 2,7 milioni di euro Ora alla firma Presso il ministero Dichiara L'assessore Ferrero Il tema Degli indennizi Dei danni Dei selvatici Verrà affrontato Lunedì 20 luglio In una riunione Con le associazioni agricole In tale incontro Verranno esaminate Eventuali modifiche Del calendario Venatorio regionale Con possibili soluzioni Sul contrasto Alle specie dannose Cinghiali E caprioli In primis E a proposito Di regione È una giornata Importante Quella di domani Per la regione Piemonte E soprattutto Per il suo Attuale presidente Sergio Chiamparini Domani Chiamparino Scusate Domani infatti Si riunisce Il Tar Piemontese Esaminerà La vicenda Relativa Alle presunte Firme False Nella presentazione Delle liste regionali Del PD A sostegno Proprio Di Sergio Chiamparino Che si è poi Aggiudicato La poltrona Di presidente Della regione Piemonte Vedremo Se domani L'iter giudiziario Avrà Una svolta Decisiva O se ci sarà Un nuovo Rinvio Approvato Il progetto Definitivo Per realizzare La strada D'accesso Al costruendo Ospedale Al Babra A Verduno Vediamo Il via libera È arrivato Anche dal collegio Di vigilanza Regionale È stato approvato Il progetto Definitivo Per la realizzazione Della strada D'accesso Al nuovo ospedale Al Babra Nel comune Di Verduno Condivise Dunque le scelte Tecniche Previste Dal progetto Definitivo Della provincia La strada Per l'ospedale Di Verduno Si farà L'ente provincia Fatto da supporto Per i comuni Coinvolti Ha dato seguito Alle loro richieste Tenendo conto Anche di quelle Fatte dalla regione E dalla stessa Asle L'intervento Approvato In linea tecnica Prevede una parziale Sistemazione Dell'esistente Via Tanaro Con la realizzazione Di due nuove Rotatorie La prima In corrispondenza Dell'attuale Innesto Della strada Comunale Sette E la seconda In corrispondenza Della diramazione Per il nuovo ospedale Nel rispetto Delle indicazioni Del collegio Di vigilanza Verrà sviluppato Il progetto Esecutivo Entro settembre A cui seguiranno Le procedure Per arrivare All'esecuzione Dei lavori Il progetto Individuo e lavori Da realizzare Contiene tutti Gli elementi necessari Ai fini del rilascio Delle prescritte Autorizzazioni E approvazioni Per le quali Verrà convocata Apposita Conferenza Dei servizi Presentato in provincia Uno studio Di fattibilità Per il recupero A pista ciclabile Del tratto Narzole Ceva Lungo L'ex linea Ferroviaria Bra Ceva Il progetto È stato realizzato Dall'ufficio tecnico Della provincia Nel 2008 Provincia E regione Hanno mantenuto L'impegno Di lavorare insieme Su questo progetto In vista Dell'incontro In programma Per il prossimo 16 luglio A Torino Incontro Che istituirà Un tavolo di lavoro Proprio per Valutare La fattibilità Di questa Pista ciclabile E ora Parliamo Di un argomento Che sta Suscitando Grosse polemiche Negli ultimi giorni Ma non solo Parliamo Dell'acqua O per meglio dire Della gestione Dell'acqua Se pubblica O misto pubblico Privata Se ne è parlato Durante l'assemblea Dei sindaci In provincia Giovedì scorso E quanto È stato deciso Ha creato Ulteriori polemiche Cerchiamo di fare Il punto Della situazione Nel prossimo servizio Entro il 30 settembre Verrà stabilita La forma Di gestione Dell'acqua In provincia Granda Regione Ed autorità D'ambito Apriranno Un tavolo Tecnico Che avrà Il compito Di definire I contorni Della società A partecipazione Pubblica Chiamata Ad occuparsi Del ciclo Idrico Integrato Del Cunese Lo ha ribadito La provincia Facendo il punto Sull'assemblea Dei sindaci Svoltasi Lo scorso Giovedì 2 luglio Gestione Totalmente Pubblica O misto Pubblico Privata Non è ancora Dato Sapersi Anche se Il documento Approvato Dall'assemblea Chiede Che venga Rispettata La volontà Espressa Dai cittadini Nel referendum 2011 Il nodo Sta qui E su questo Punto Si è acceso Il dibattito Prima Durante E dopo L'assemblea Dei sindaci Sul piede Di guerra Il comitato Cunese Acqua Bene Comune Il cui Rapporto Con i sindaci Ai minimi Termini Tutta colpa Dell'emendamento Di Biolè Sindaco Di Gaiola Con cui Chiedeva Di aggiungere L'avverbio Totalmente Accanto Che gli amministratori Siano divisi Non è un mistero Meno chiara La reale intenzione Di ciascuno di essi Il comitato Per l'acqua pubblica Sta studiando Nuove iniziative Per ribadire Il proprio malcontento In programma Una riunione Mercoledì prossimo Ci si chiederà Se vale la pena Continuare a inseguire I politici O se non sia meglio Replicare Qualche forma di protesta Coinvolgendo di più Gli altri cittadini Forti del fatto Che le manifestazioni Sul tema acqua Hanno sempre riscosso Molto interesse In calendario Anche un incontro Fissato per il prossimo 20 luglio Con i comitati Di Torino E Vercelli Per studiare Azioni Comuni Importante partecipazione Della Coldiretti Piemontese Che con molti Allevatori del Cuneese Anche ha raggiunto Fin da questa mattina Piazza Montecitorio A Roma Tutti Come sappiamo In piazza Per impedire Il via libera Alla produzione Di formaggi Senza latte O meglio Con il latte In polvere Oltre a danneggiare I consumatori Tutto questo Metterebbe a rischio Il patrimonio Gastronomico Italiano Con gravi effetti Sul piano Economico Oggi Mandano il polvere In latte Domani il paese Dai regolamenti comunitari Alibi per industriali Nemici del made in Italy Questi contenuti Di alcuni striscioni Esibiti appunto Alla manifestazione A Roma In sostanza I manifestanti Hanno mostrato Come avviene La produzione Del vero formaggio Italiano Sfidando dunque L'imposizione Di Bruxelles L'utilizzo Della polvere Di latte Farebbe sparire 487 Formaggi Scensiti Dalle regioni Italiane Staremo a vedere Come si evolverà Tutta questa Situazione Cambiamo decisamente Argomento 20 anni del Movimento Donne Impresa In seno a Confartigianato Cuneo Vediamo il servizio 20 anni del Movimento Donne Impresa Di Confartigianato Un momento per riflettere Sul percorso Finora compiuto Ma anche sul ruolo Importante Del gruppo Di opinioni In particolare Quello in Rosa Sì Confartigianato Ha creduto 20 anni fa Nel ruolo Dei gruppi Di opinioni All'interno Del sistema Proprio per valorizzare Le peculiarità Che caratterizzano Un sistema complesso Come quello Di Confartigianato Direi che poi Nel tempo A livello nazionale Si è declinata Anche la capacità Di un sistema associativo Di seguire I suoi associati Non solo Nel momento in cui Sono imprenditori Ma anche Nel momento in cui Rappresentano E hanno un ruolo All'interno della società Quindi è nata A livello nazionale Confartigianato Persona Che ha lo scopo Di valorizzare L'artigiano Nella società civile Che sia donna Che sia uomo Che sia pensionato O sia cittadino Quindi con tutti i doveri E i diritti Del cittadino stesso Ci sono le solite difficoltà Che si incontrano Soprattutto con una politica Che talvolta Non ha ben presente Quale sia la realtà Artigiana Però da quel punto di vista Noi siamo molto ferme Sulle nostre posizioni E noi ci siamo Rappresentanza e welfare Sono i due punti fermi Del vostro impegno Come movimento Assolutamente sì Noi vogliamo portare avanti Il discorso Della conciliazione Perché purtroppo Come donne artigiane Non è che abbiamo Le coperture Che vengono date Alle dipendenti Un rilancio al futuro E quello che il movimento Donne A partire da questi Vent'anni Ad andare in avanti Vuole trasmettere L'abbiamo trasmesso In questa apertura Perché questa è una serata Di apertura Ci saranno poi Altre manifestazioni Dove il movimento Sarà presente Sul territorio Da qui alla fine Dell'anno Un rilancio al futuro Per queste giovani donne Che si affacciano Al mondo del lavoro Un mondo del lavoro difficile Dove noi abbiamo Il dovere E la responsabilità Di accompagnarle E di rendere a loro La via Un pochino più facile E proprio da Cuneo Che sono partite le basi Per il movimento donne A livello territoriale Regionale E nazionale Ai tempi Si è evoluto Vent'anni fa Rappresentare 25% Di donne scritte In confrattigianato Quindi portare La sensibilità Al femminile Portare la rappresentanza Delle problematiche Che erano al femminile Il mio percorso Nasce proprio Dal gruppo donne Nel 96 Mi sono avvicinata Al movimento E sono diventata Delegata di Fossano E io ho avuto Dal movimento Tanti strumenti Per poter Crescere E per Poi Affrontare Il percorso Che io Ho affrontato All'interno Della struttura Ricoprendo diversi Incarichi Importanti In Piemonte La temperatura media Dell'altro ieri È stata di 28,2 gradi Appena un grado In meno Rispetto al record Che è di 29,2 gradi Dell'11 agosto 2003 Il giorno più caldo Da quando si effettuano Le misurazioni Ma le notti tropicali Rivela il rapporto ARPA Citato dall'agenzia ANSA Sono state più bollenti Rispetto a 12 anni fa La media delle minime È stata di 22,7 gradi La media più alta Delle massime 34,4 gradi Inferiore In questo caso Ai valori del 2003 Ma anche a quelli Del 2011 2012 E luglio 2006 Comunque è previsto Per domani Un lieve abbassamento Delle temperature Che dovrebbe un po' Migliorare la situazione Particolarmente affosa Che ha vissuto anche La provincia di Cuneo Negli ultimi giorni Cuneo si illumina Non solo la manifestazione Di luci Che durerà fino al 14 luglio Ma anche le fontane colorate Vediamo il servizio Cuneo si fa bella E festeggia tutto tondo Non c'è solo Via Roma Illuminata Anche le fontane Della città Sono colorate Per l'occasione L'acqua Che zampilla Nelle rotonde Di Piazza Torino Corso Kenne Di Corso Soleri E Corso Francia Via Pertini È tinta di rosa E lo sarà Per tutto il periodo Della manifestazione Fino a martedì 14 luglio È il regalo Dell'associazione Pane al Pane Onlus Alla città Ovviamente I coloranti utilizzati Non sono tossici A immetterli nell'acqua È stato direttamente Il personale Dell'Ufficio Verde Pubblico Comunale Sono coloranti Di origine vegetale Assolutamente sicuri Per l'ambiente E intanto Continuano le serate In via Roma Con l'illuminata Fino a martedì 14 luglio Spettacoli di luci A ritmo di musica Un successo Che si ripete Ogni sera Alle 22 E alle 23 Dopo le 40.000 Presenze All'inaugurazione Di sabato Sono sempre tantissimi Gli spettatori Che accorrono nel capoluogo Anche da fuori provincia Del resto È la prima volta Che uno spettacolo Del genere Viene portato In nord Italia Dall'azienda pugliese Mariano Light Una galleria di luci Una galleria di luci coperta Che si affaccia Su piazza Galimberti E prosegue in via Roma Con volta a botte Di 12 metri di lunghezza Seguita da 140 metri di archi Sistemati lungo la strada Per concludersi Con 24 candelabri Posizionati ai lati Dopo la galleria Prosegue la rassegna Castelli aperti Che offre in sostanza La possibilità Di visitare Domenicalmente I beni culturali In provincia di Cuneo Per quel che riguarda Domenica prossima 12 luglio In Langa Saranno aperti Il castello di Serralunga d'Alba E il castello di Saliceto Nella zona del Roero Sono visitabili Il castello di Magliano Alfieri Il castello di Govone Il castello di Monticello Poi Castelli aperti Interessa Dicevamo Tutto il territorio cunese Dunque Sempre aperto Il castello Della Manta A Fossano E a Fossano E anche visitabile L'antica dimora Degli Acaia Passiamo adesso Allo sport Passiamo al calcio Nella serata di ieri Si è svolta la conferenza Stampa di presentazione Dei primi acquisti Del Bra Bra che giocherà La prossima stagione Ancora in Serie D Una campagna acquisti Che determina Grosse ambizioni Per i giallorossi Vediamo allora Il servizio Sulla presentazione di ieri Primo atto ufficiale Per il Bra 2015-2016 Martedì pomeriggio Sono stati presentati Cinque nuovi giocatori Che vanno a rinforzare La Rosa A disposizione di Massimo Gardano In vista del prossimo E imminente Campionato di Serie D Presenti i giovani Perrone Di Savino E di Masi Oltre ai due pezzi Da 90 Luca Carretto E Carlo Emanuele Ferrario Mercato che non termina qui Come hanno precisato Il presidente Germanetti E il direttore sportivo Cavallo Di certo il Bra Riparte Con importanti ambizioni Gli auspici Sono quelli Di fare Un campionato Di alto livello Con ambizioni Perché comunque L'abbiamo detto La volontà è quella Di migliorare il campionato Dell'anno scorso E quindi Cercare di migliorarci Senza darci Un obiettivo specifico Ma un obiettivo generale Cioè quello di fare bene Cioè fare il meglio possibile Cercando di migliorare La situazione La situazione dell'anno scorso Credo Che le prerogative Ci siano D'altra parte Oggi Con la presentazione Dei primi giocatori E anche Insomma Dei giocatori Di un certo livello Ci sia la dimostrazione Che questa volontà È stata suffragata Dei fatti Siamo attenti A cosa è il mercato Sia della serie C In discesa O comunque Anche dei svariati giovani Che magari Hanno ancora L'opportunità Di potersi accasare Il fatto Di poter Trattare Ed eventualmente Rimpolpare un pochettino Questa rosa Che in questo momento È sufficiente Ma non Propriamente In grado Di poter affrontare Il campionato Per completare il mercato Dunque si guarda A qualche giovane In particolare A qualche 97 Come avete detto In conferenza stampa È ancora possibile Qualche colpo Alla Carretto Alla Ferrario Io penso di sì Io penso di sì Perché Ribadisco Il discorso Del centro campo È un discorso Che vogliamo affrontare Con estrema serenità E Vogliamo pensare bene Prima di fare Degli innesti E quindi Non ci precludiamo Il fatto che Il nuovo innesto Debba essere Necessariamente Un giovane O un vecchio C'è una casella Libera Dobbiamo riempirla Con un giocatore Di grossa sostanza In attesa dei prossimi colpi Allora Ascoltiamo le prime Dichiarazioni Da giocatore Del Bra Di due dei nuovi Arrivati Luca Carretto E Carlo Emanuele Ferrario Per Ferrario Come ribadiremo Nel servizio Si tratta di un ritorno In giallo rosso Vediamo Nuovi volti E sicuro affidamento E sicuro affidamento Luca Carretto Difensore Dal loro modo di fare Mi sono sentito apprezzato Sicuramente Per quello che è stato E comunque Inserito in un progetto Importante Con dei compiti Ben precisi Progetto ambizioso Si può puntare Alla promozione Tu sei un po' un esperto Beh ora Questa è una domanda Un po' Un po' complicata Da fare il 7 luglio Sicuramente Noi giocheremo Per vincere Tutte le partite Questo è sicuro Conoscendo anche un po' Il mister La sua mentalità È una persona A cui non piace perdere Un po' come Penso Anche altri ragazzi Che ho visto qui stasera Io conosco Carlo E lui è anche un ragazzo Che cercherà Di vincere Tutte le partite Sul campo Senza pensare Che nessuno Ci regalerà nulla Non vedo Una squadra Favorita In questo momento Almeno a pensare Al girone Dell'anno scorso Ecco Poi se verranno inserite Delle realtà diverse Di grosse squadre Decadute Non lo so Noi sicuramente Cercheremo Di vincere Tutte le partite Ecco Questo è sicuro Decidi tornare Perché Sono stato richiamato E è stata Per me una gran cosa Nel senso che mi ha fatto Molto piacere E ho subito Ho subito accettato Questa Questa nuova Diciamo Avventura E niente Sono ringrazio il presidente E tutte le persone Che mi hanno Mi hanno rivoluto E' un grande onore E' un grande onore Essere tornato qua E davvero Sono molto felice Perché è un posto Che sono già stato E nonostante L'annata brutta Che era arrivata Quell'anno Sono stato veramente bene Quindi è solo un piacere Essere tornato qua E' un po' come Essere tornato a casa Ecco C'è quel precedente Di quell'anno Negativo Per la squadra Sembra che Quest'anno Sarà un'altra storia Sembra molto ambiziosa La società Sì Sicuramente Sono convinto di sì Quell'anno Guarda Dico la verità L'ho già Diciamo che l'ho già rimosso Come penso Questa società Che non si merita Quelle cose che sono successe Perché è una società Che E' organizzata Dal presidente Fino a A chiunque lavori In questa società Quindi Sicuramente quest'anno Siamo Come l'anno scorso Che hanno fatto molto bene Siamo Carichi al punto giusto Per Per portare Dove Il bra merita E fare bene Questo campionato Bene Tutto Per quel che riguarda Questa edizione Del nostro Telegiornale Come sempre Un grazie Per averci seguito E l'augurio di trascorrere Una piacevole serata Arrivederci Per 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 Grazie a tutti.